Tra la lì, tra la la, la va qui, la va là, ah ah, la stazione, la stazione, la stazione, la stazione, la stazione, la stazione Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata sulla Sky Factory Siamo i quattro laggosi, mamma mia, mamma mia, guardate il ritardo Allora ragazzi, questa è ufficialmente l'ultima puntata registrata della Sky Factory Domani o un altro di questi giorni, ma non lo sappiamo, vediamo quando abbiamo un attimo di tempo Faremo l'ultima Sky Factory in live ragazzi L'ultimo Eh sì, perché ormai come avete visto è arrivato all'estremo, non regge più Allora, oggi per questa puntata cosa andiamo a fare? Un altro achievement Facciamo un altro achievement, l'ultimo achievement della Sky Factory Sì, faremo l'ultimo che è TR3 Allora, quale è, quale è? Allora, dobbiamo andare a fare prima la Road of Teleport Oppure la Road of Return, come la volete chiamare Si fa tranquillamente dopo aver sbloccato tutta la roba della Dark Craft quasi Con un Ender Pearl e una Force Road Allora, ci serve giustamente della Force Essence Perché non ce l'abbiamo, se no Che sta qua dentro Ecco la Force Gem, perfetto Allora, ah, che estrema Allora, dovremmo caricare di energia Vediamo un po', eccolo qua Perfetto Facciamo go e adesso praticamente Trasformerà Questa bacchettina La trasformazione Oh Guarda quanto ci metti? Un bel po', mamma mia Non è che a metà, eh Dai, veloce, veloce Sbrighete, sbrighete Sbrighete Aspetta, shiftiamola, magari va più veloce Come gli alberi, come gli alberi Sì, vai, vai Oh, ha finito davvero Mazzata No, è mia Dammela, 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 dammela Dammela, mi serve Dov'è? Eccola No, ci metto dieci anni per accoglierla Guarda, eh, dieci anni, eh Uno, due Ok, ci ho fatta Allora Due anni Eh, sì, sono due anni quelli, capito? Poi noi avevamo Nell'inventario qui Gli spati al Si chiamano Spati al qualcosa Non questi, gli altri C'avevamo i piloni Dove sono andati a finire i piloni? Non lo so What? Non lo so Avevamo dei piloni una volta Sono stati distrutti No, ce li avevamo nelle ceste Non ricordo nulla Dove l'andiamo messi? Dove, dove, dove? Vabbè, andiamo a cercare i piloni In una delle ceste E ritorniamo subito Allora, ragazzi Era nella ceste qua davanti Pensavo che dovevo fare dei chilometri Per andarla a trovare Invece siamo stati fortunati Eccoli qui Dove stanno? Non li trovo più Ce l'ho appoggiati O ce l'ho appoggiati? Ma che me l'hai spostati? Eh, vabbè Allora, fai E si ingarlamera E si ingarlamera Allora Questi piloni L'abbiamo trovati Fortunatamente Con i laghi block E praticamente Si craftano con Quattro quartz glass Facilissimo da craftare Ormai a livelli nostri M-cubble Che già avete visto Fluxy dust Che già avete visto una volta E poi L'ultimo oggetto Per craftarli Do cacchio Andati a finire Mi spariscono Eccoli qua I fluxy crystal Che lo stesso L'avete già visti Certus Redstone E nether quartz A livello A livello A cui siete Questo Achievement Dovrebbe essere Abbastanza semplice Allora Andiamo a vedere Altro Qui mi sono creato Una piccola basetta Con altri due elementi Del land Si del land Dell'appliate energistic Che ci serviranno Allora Questi piloni Vanno messi in questa maniera Una Due E tre Sono spenti Quando sono con questo colore Lo vedete? E sono belli Ok Questa struttura La potete fare Della dimensione Che volete Giustamente Più è grande E più ci vorrà Si ha energia Sono diventati viola Vedete? Ecco qua Hanno cambiato colore Allora Questo oggettino qui Si chiama M.E. Spatial Io port L'M.E. Spatial Vi faccio vedere Come si crafta Perché tanto è facile Anche questo ormai Ai nostri livelli M.E. Oh perché non me lo trovi Spatial Ok Trovato Allora Lo Spatial Io Si crafta Con 3D vetro 2 M.E. Cable 1 M.E. I.O. Port 1 M.E. Advanced Processor E 2 Iron Ingot Allora Questo sapete tutti Come si fa Dal diamante Dal quartz cutting 2 redstone E un silicone Quindi facilissimo Lo stesso quello centrale 2 M.E. Drive M.E. Cable M.E. Basic Processor Tutta roba che abbiamo già visto Vetro e ferro Allora Questo oggettino Servirà per Inserire all'interno I nostri Spatial Storage Che sono Quei cosi Che abbiamo trovato Una volta Vi ricordate Che adesso Stanno nelle M.E. Chi me ne va a prendere Uno nelle M.E. Visto che ce ne abbiamo Tanti sdoppiati Io faccio un concerto Ok Dolle Sembra un palco Possibile Allora L'Energy Cell Invece Questo qui Che sto annaffiando Allora Questo Si crafta In questa maniera Ve lo faccio vedere Anche questo è molto facile E ci serve Per dare più energia A questo impianto Non che ce ne manchi Il problema È soltanto Che non viene mandata Direttamente dall'applet Questo serve come Deposito di energia 4 di ferro 4 flux crystal E un vetro Quindi facilissimo anche questo Più ne mettete Più c'è il deposito Di elettricità Che dovevo pigliare Spatial storage Roba del genere Spatial storage 125 Dovebbe essere quello grosso 128 128 Ok Quello lì va bene Lo storage No? Si si Portalo Portalo Allora Questo oggettino M.E. Spatial Ci metteremo all'interno Lo storage E metteremo questo pulsante Che attiverà tutto L'impianto Con un pulsante Attiveremo l'effetto Di questo oggettino Ma vedete che fa Intanto Intanto io faccio una bella cosa Prendo questa Road of Return E me la setto Set Dimensione 0 A queste coordinate Dove mi trovo adesso Salva Vediamo un po' se funziona Dovrei trasportarmi lì Perfetto Usando l'energia Quella della dartcraft E non quella della bacchetta Dai fermo Ok Che me dai? Ok Passa 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 Dove è andato Piglialo 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 Dieci anni Ho almeno a fare la give Mentre che prende un oggetto Da pettero Allora Metterò questo Spatial storage E se Queen Fire e Bell Se non si levano da lì Rimarranno bloccati Nell'altra dimensione Ok La cosa divertente È che io adesso Mi metto su questa piattaforma E Isingar va a spingere Quel bellissimo pulsante E io dovrei sparire Guarda Dino Sono pronto con la bacchetta Addio Addio No Ah sono sparito No sto morendo Ok sono ritornato nel mondo normale Oh mio dio Oh eccomi Eccomi sto qua dietro Oh stavo morendo soffocato Perché? Perché l'altra dimensione è troppo stretta Visto che c'era un oggetto solo Stavo morendo male Guardate bello Allora Se io adesso metto un blocco lì Un tank Guardate eh Spingo e sparisce Aspetta no Devo rimettere lo spazio qua Se non sparisce niente Guarda eh No ma sparisce pure la freccia Mi sa No What? Lol Eccolo No No Perché non sparisci? What? Perché non fa sparire solo i culi No ma ha fatto sparire solo a me Non fa sparire l'oggetto Che mi stai prendendo il giro Vabbè Ci crediamo Va bene Comunque Questo oggetto serve per depositare Un'intera dimensione Da un'altra parte Quindi se volete spostare un impianto Lo inserirà all'interno di questo Oggettino qua Tutto l'impianto E voi creando questa struttura Lo potete spostare L'archivement era Entra nella dimensione alternativa Tramite questo Spatial E teletrasporta di indietro Con la Rod of the Return Era una delle quest Di livello 3 Quindi di livello più alto Anche questo achievement È fatto Yeah Vado a mettere la spunta E intanto che io vado a mettere la spunta Ci vediamo direttamente alle statue Yeah Andiamo alle statue Corriamo Assassin Creep Assassin Creep Assassin Creeper E adesso Ucciderai con delle palline di neve Non si vedono Ah si si vedono E a Natale si può fare di più A Natale A Natale puoi tirare le palle Dove vuoi Anche la paia Non ci stava mai Ah anche la paia Teletrasporto V Dove vai? Ero io Ecco Hai lucky block Lucky block Andiamo ai lucky block Eccoci ai lucky block ragazzi Guardate che brutta L Che ha fatto i singer Che dice Quella è l'L di lucky block Mamma mia che brutta cosa Siamo pronti a guerriti Chi tocca al lucky? Oh Non lo so Io non lo voglio aprire prima Vai Queenfer Prego Sempre io Va bene Perché tu sei la più pericolosa Quindi Oh uova E galline E diamanti Allora ammazziamo qualche gallina Con la spada infuocata Gli diamo poco Addio a lei Oh pezzo di pollo cotto Vabbè Sì gli dai poco Ok Chi è il prossimo? Io ho fatto la mia Io 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 Ok Vai Te lo comandino Che culo Abbiamo così tanti Vero Vai Belse Dai dai Corsette Corsette Io 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 Che cos'è? Ma è il lavavetri Sì Ti usci del lavavetri Sei un lavavetri Morduk Aspetta Vieni qua che ti lavo Vieni qua che ti lavo anche a te Io ti do la borsa di testa Ma mi graffi L'armatura Ok Rompiamolo No chi è mai ghiacciato? Volevo scappare io L'aperto Borsetta Del land Uh Uh TNT Non lo so Cos'è? Lana nera Sono finiti Signorina Sono finiti Io non ho quello che sta all'interno Ok Vai vai Oh vetri Vai vai ancora ancora Di cattiveria Lucky block rage Che è successo? Se ne è buggato uno e è sparito Una spada Una torta Una torta Fino a che non nasce un mob Eccoli usciti Ragni Ok il mob è uscito Morite Morite Non ci attaccano però È il potere di crazy È perché è giorno Aia Chi me sta a meno a me? Io no Ma ci sono bells Sei tornato? Sì sì Sono qui Sono qui Sono qui Sto riprendendo la mia roba Registramente Te ripieghi la roba Sto già registrando Te ripieghi la roba Eh Mi sento un ragno però Oh E ce n'era uno Vabbè io rompo un altro blocco Ciao Aspetta Paura eh Pure io un altro Diamante Armatura d'oro Sì E non c'è manco lo spazio Come armatura d'oro De cavallo Che è l'armatura d'oro De cavallo adesso? È una novità Oh Ho rotto qualcosa Vai 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 Ancora 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 Siamo matti E rage E rage E raggi della giblo Ah Ancata Ancata Andate rompete più Veloce della luce Oh mio dio Ma manca Hilden però C'ho la nausea Ragazzi ho la nausea Sto dindolando tutto Ma io c'ho mezzo cuore Cioè sto menando tutto all'ossidiana E non riesco a romperla Che blocchia che sta là dentro Oh una cassa No Che brutto Guarda Guarda Si è incastrata E mo E mo non si rompe Mo dovresti rompe la cassa Non si sposta in avanti la cassa Rompiamola da là dentro Oddio mi sta dindola tutto Non ci capisco più niente C'ho 24 secondi di nausea Regà Guardate si è fatta la colonna all'interno No Sto cacciando il cubo d'argillo Sicuramente i ragazzi ci avranno un mal di testa adesso Perché mi sta girando tutta la testa Io sto con mezzo cuore Io c'ho la nausea Mi tocca so morta Oh altra cesta No No è quella di prima La key block Oh non si sposta sta cassa La key block Mi sei finita la nausea Ok ho posto Olè Tutte armature Ma chi è che siamo fortunati Oddio Ti rompe Levate qui Oh Oh Ma mezzo cuore sto morendo Devo scappare Blocchi Ma che carini Blocchi strani Oh Oh cacchio Ahia Sono morto Oh porca miseria Mi sono distratta Mi sono distratta Me ne so accorto Tante streghe Che mirano a Eh Singar Eh Singar Non voglio morire bambina Mi metto la mia morita E arrivo io a salvarvi Tarà tarà Oh no Stanno a mira a me Malisetta strega Mi sono salvato Sono tre cuori Io sono allontanato Forse è meglio di no E se uso la manonna gigante Io sto usando la laggy sword Già c'è la lag No poi ci si mettono pure streghe Ucciderò Aia Mi stanno uccidendo loro Sono morto Morirete streghe Morirete streghe Mi uccideranno loro Perché c'ho mezzo cuore Ma io c'ho un master in arceria io Mamma mia Guardate con la laggyle stiamo ammazzate tutte però Io sono morta Ho appena detto questo Io sono morto Winfire was killed And we're choosing magic All It's magic It's a It's a magic number No È andata fallita per quello È caputo Aia Sono morto Mori Mori Sono tornato E se stanno Ma se stanno a tirare le pozzine tra di loro Può darsi Mi stanno a rincoglionire Guarda Si stanno a menare tra di loro Riprendile Riprendile Le sto riprendendo Le sta riprendendo Cioè Guarda Guarda Lasciamo le menate Quello non è carino Si ma posso recuperare la mia roba Gentilmente O devo morire mentre Le menate Ok Ho recuperato la roba No Aia Pozioni Perché si è rigenerata la mia tomba Ok Vediamo io mentre non se ne accolgono Che litigano tra loro Ma sentite Deve suonire strano Scusi signora Lei può morire Ciao strega Ciao strega Ciao strega Guarda quanta roba Danna strega E un po' lo zucchero E un po' l'energia magica E un po' tutto Ma che è Ma che è Ma che è Aiaiaia Penso che morirò tra poco Tra 3 2 1 Adesso ti ammazzo io No Stavo per menare No No c'è una di una della schiena L'ammazzare io Va bene ragazzi Devo dire che abbiamo fatto Dei bei lucky block Ne abbiamo fatti molti Dp del solito E l'abbiamo fatti a cassaccio Giusto per divertirci un po' E niente ragazzi Questa era l'ultima puntata Anzi la penultima Perché l'ultima sarà in live Se vi è piaciuta Come al solito Lasciate un bel mi piace Condividete il video Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Per le prossime serie Che usciranno E niente ragazzi Passate anche dal canale facebook E dal nostro TS3.ifabag.it Vi aspettiamo in tanti Alla prossima Ciao 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 a tutti 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 Ciao a tutti